Pieruccio come stai? Molto bene! Allegra più che altro! Guarda la tina ti sta ignorando! Allora Maria chiedo a te ma c'è stato un progresso nella storia tra lei e Alessandro? Sono andati insieme al concerto di Vasco! Se io sono stata molto bene mi sono divertita un sacco! Beh si vede se la faccio è quella! Maria e noi rimaniamo sempre amici comunque niente di più! Quindi non è cambiato niente! Meno male che hai trovato un amichetto Pinuccia! Ma la f***a! Cazzo una maleducata! Ma finiscila! Pinuccia a te brucia che Alessandro non è innamorato! Ma tu non ti preoccupare! È pesante! Io sono pesante! Lei no! La signora Pinuccia di Vigevano! Ma non provi vergogna! Io ma ti rendi conto di come ti rapporti con me? Sembri una strega! Una belva! Vabbè Pinuccia ma continuano ancora a parlare male di Tina Vigevano? E come? Allora Maria appena esco da questo studio oggi faccio partire una querela a tutti gli abitanti di Vigevano per colpa sua te lo dico! Sei proprio scena! La scatte la mutazione!